Maxifurto di nichel alla Casprini Gruppo Industriale, una storica azienda che si trova tra Cetinale e Santa Barbara nel comune di Cavriglia. Un colpo pianificato nei minimi dettagli, i ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì nella storica fabbrica Valdarnese. Hanno tagliato la recensione esterna e si sono diretti verso il magazzino. Ben preciso l'obiettivo dei malviventi che sono riusciti a portare via circa 15 quintali di nichel, stoccato in fussi per poi essere impiegato nella catena di lavorazione della Galvanica. I ladri hanno caricato il metallo su un camion della ditta parcheggiato nel piazzale e poi si sono dati alla fuga un bottino tra i 40 e i 50 mila euro. Scatato l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che hanno dato il via immediatamente alle indagini. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere, dei sistemi di video sorveglianza private e delle reti comunali attive nella zona, filmati che sono già al vaglio degli uomini dell'arma. Solamente qualche giorno fa un altro colpo, in questo caso acquarata in un'azienda di preziosi, in azione la banda del buco che è riuscita a fuggire con un bottino da diverse migliaia di euro.